ciao ragazzi sono quattro dovevano essere cinque ma ho fatto una stupidaggine praticamente ho visto un buco nell'altro uovo no e praticamente ho preso e l'ho aperto io no perché ho visto un buco e ho detto cavolo stanno uscendo come tutti questi altri invece non era ancora sviluppato e lo stomaco non ce l'aveva cioè si è tolto e quindi è morto ho fatto una stupidaggine lo so e l'ho seppellito come giusto fatto una stupidaggine quindi quindi niente ora sono quattro perché uno l'ho fatto morire io per per coperto io l'uovo e quindi quattro dei piccoli uno è morto da solo dovevano essere sei in totale uno l'ha ammazzato non è quello ammazzato io non l'ho fatto apposta cioè non lo volevo fargli del male già che a un altro piccolo è successo che praticamente i genitori non lo aiutavano uscire dall'uovo e rischiava di morire quindi l'ho dovuto salvare io avevo paura anche per l'altro uno per una mia stupidaggine una naturalmente niente ciao